E leggo nel programma delle proposte che sono sempre stataliste e dirigiste, gli uomini sono le stesse, hanno rimpicciolito la falce e martello, ci hanno messo un simbolo ecologico che è la quercia, per tutto il resto non è cambiato niente. Ma dico di più, è presente nella mente, nella mentalità, nel modo di fare politica di chi è stato per una vita comunista nell'errore chi ha applaudito a due mani ai misfatti terribili che il comunismo ha fatto in questo secolo e questi signori fanno oggi campagna elettorale ancora denigrando l'avversario politico, criminalizzandolo, utilizzando tutti i mezzi noti e non noti, compreso la sinistra giudiziaria per cercare di eliminarlo. Questi sono i comunisti, quando si è comunisti dentro come lo sono loro non si cessa mai di essere tali.